È fondamentale l'importanza della grandezza, che devono essere intorno ai 10 micron, perché sono quelli che restano all'interno della cavità nasale. Quindi per medicare una cavità nasale occorre innanzitutto detergerla. Quindi i lavaggi sono fondamentali prima di ogni altra cosa. Dopo la detersione bisogna medicare. Fino a poco tempo fa si utilizzavano anche dei device tipo RinoWash, Flurispira, Oggi IABRO presenta un nuovo device tecnologicamente avanzato che permette la nebulizzazione della cavità nasale rapidamente, quindi non occorre tempo, non occorre trovare tutti i sistemi per poterli organizzare. E quindi oggi questi sistemi sono già pronti per l'uso, quindi molto maneggevoli, quindi molto pratici. È la praticità oggi che si va sempre di fretta. È molto fondamentale.